È stata una sessione di governo insolita, quella tenutasi giovedì a Zagabria. I ministri si sono tutti presentati con la maglia a scacchi rossi e bianchi della nazionale croata per festeggiare la vittoria in semifinale sull'Inghilterra di Modric e compagni, che domenica sfideranno la Francia. Io e il presidente Macron ci siamo dati appuntamento a Mosca, tiferò per la mia nazionale e vinceremo, ha dichiarato dal summit NATO di Bruxelles la presidente croata. Sarà la prima in assoluto della Croazia in finale. I vatreni parteciparono per la prima volta in un mondiale nel 98, chiudendo al terzo posto loro miglior risultato. Allora vennero battuti in semifinale dalla Francia, padrona di casa, che avrebbe poi sollevato a Parigi la Coppa, la prima e finora unica della sua storia.